Musica Wow! Hai visto! Musica Vola nello spazio con Barbie e il suo overboard galattico dal nuovo film Barbie avventura stellare Musica E' facile da usare Musica Con il joystick Barbie si alza in volo e può essere guidata in varie direzioni e altezze Guarda come vola in alto! Musica 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 Grazie.